Un minuto 0-1-13 Un applauso a Gagnetti Con numero 2 Andrea Castella 0-53-25 Il numero 5 Il mitico Astemissimo Locci Roberto Un bacio, un bacio Ma ascoltate con 53-34 65 Martina Bobone Non tante di una medaglia, non vengono una coppia di grava Arriverà Numero 11 Nicola Marmai Il suo tempo è 48 netto Si pregara Elena 0-49-03 Con 14 Pozzi Alessandro Puoi sapere il tempo? 6 ore 40 È meglio di nota Un minuto Poi passiamo a Parro di Lorenzo con 19 1-05-69 Su un sito Parpajou Parpajou No, no Così Svegliate le serie al mattino, dimmelo a te 48 netto Non siete mica tutti così rugne come No, no, c'è di peggio Marcato Federica C'è la mamma che è peggio Su fra Fabio col 23 1 ora 15 A uno dei Marsi, miei esponenti di Parpajou Alto Fabio Attenzione, ho saltato le medaglie per Altoniozzi Francesca e Parodi Pierbruno Dove sono? Parodi Altoniozzi Usate eh Qui non possiamo dire Casanova Tommaso 27 Decca acceleriamo Poi facciamo Vi daremo i vincitori Mangiatordi Alessio Con 32 Bravo Mangiatordi Davide No, no ragazzi Se sei qua vieni Vieni a comprare Vieni a comprare Ma ti scusi Bionda Non puoi venire un attimo a dare due medaglie anche a lei Poi Giuliani Giorgio Giuliani Claudio Entra in campo la Super Tassa No, per la tre piatta da Ramone Siamo con la medaglia E infine Pre gara Francesco Bravo Allora adesso un po' di patos Arriviamo veramente a coloro Fabio Mangiatordi Davide E' solo l'onore Prima classificata Antoniozzi Che verrà premiata Chiaramente Da Fabio Per quanto riguarda Aspaglione E per la cattarola Il mitico Ramon Poi ci vuole la canzone Quanto? 47,97 ha fatto Però non mi cremi a Fabio Non mi cremi a nessuno Per non male Silvia Per Fabio E quarto casarola Bruno Gabriele Con il tempo di 45-45 Per quanto riguarda